L'hai fatto come è seguita? Paolo Allora bene siamo Mi ricordo di seguita Dunque si ci stiamo dirigendo Verso la trattoria da Rosa Che è al castellaccio E dice fa una zuppa Rosa Come la fa lei La pesta copiene Come faceva Norvino In una volta Esalazioni dell'alcol E della senza piombo Che è sempre, come dire, va sempre di moda Ehi guarda C'è Zac che non sono affatti Questo è quello che ha fatto Chi? Siamo arrivati Siamo arrivati da Rosa Ciao 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 Ciao